Volevo ringraziarvi a nome di tutti e tutti noi per essere qui con noi stasera, la prima serata del Neuroz, il nostro festival che con una serie di appuntamenti ci porterà a quest'estate in cui replicheremo la tre giorni che c'è stata l'estate scorsa, aumentando ancora di più la proposta in termini culturali, in termini musicali e in termini politici. Siamo molto contenti di aver iniziato così questa serata perché per noi tutte le esperienze culturali e tutte le parole che riguardano il sud, che riguardano il meridione sono parole importanti. Quando dovevamo scegliere il nome del nostro festival non abbiamo avuto dubbi, abbiamo deciso di chiamarlo Neuroz che nella lingua del popolo kurdo significa nuovo giorno. Abbiamo scelto questa parola prima di tutto per dire che siamo vicini a tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, le compagnie e i compagni che in Kurdistan combattono contro i fascisti dell'Isis e i fascisti dello Stato kurdo. Siamo stati più conti con delle caromane in Rojava e continueremo a sostenere sempre l'esperienza di resistenza antifascista del popolo kurdo e del PKKK contro la vergognosa politica fascista dell'Isis con Ivente, con l'Erdogan e con l'Unione Europea. Abbiamo scelto di sostenere questo popolo non perché ci sentiamo superiori ma perché riconosciamo in noi napoletani, in noi campani, in noi meridionali un popolo sfruttato e che quindi è solitare con tutti i popoli sfruttati di questa terra e che però a partire dallo sfruttamento sanno costruire forme di resistenza. Il nostro sfruttamento ha molti nomi, il nostro sfruttamento ha il nome di tutti gli industriali del nord Italia che avvelenano la nostra regione, il nostro sfruttamento ha il nome dei caporristi che d'accordo con le imprese, la politica locale e le forze dell'ordine sfruttano le nostre comunità, il nostro sfruttamento ha il nome della politica corrotta che da vent'anni governa questa regione, ha il nome di Vincenzo De Luca, di Caldoro, di Antonio Passolino, di tutti quei pezzi di merda che si proporranno ancora di governare il nostro territorio e che sapremo mandare a casa. Ma lì dove ci sono i nomi degli sfruttatori ci sono anche i nomi di quelli che resistono e anche la resistenza ha molti nomi e molte parole, la nostra resistenza che parla le lingue di tutti gli aletti meridionali, ma trattati dall'italiano e più belli di ogni dialetto settentrionale, la nostra resistenza ha il nome di Ciro Esposito, ragazzino di Scampino uscito dai fascisti, la nostra resistenza ha il nome di Gennaro Cesarano, ragazzo della sanità ucciso dalla camorra, la nostra resistenza ha il nome di Davide Bifosito, ragazzino del Pione Ciro Esposito, ucciso dalle voce dell'ordine e buon fa culo agli infami che al gomero hanno strappato il microfono, buon fa culo a chi pensava che Flora non dovesse parlare, perché per noi chi viene dal mio cattiere è sempre il benvenuto, è sempre il nostro fratello, perché siamo noi che veniamo dalle periferie di merda in cui ci hanno rinchiuso, dei posti desolati in cui ci sfruttano e ci avvenerano e ricordassero tutti che da quei territori che hanno provato a ghettizzare nasceranno mille forme di resistenza e contro ogni sfruttatore, mille persone, mille donne e mille uomini saranno disposti a disobbedire a una legge ingiusta o a un sfruttamento scelerato. E' questo di cui vogliamo parlare quando parliamo di Neuro, è questo che intendiamo per un nuovo giorno per Napoli. Benvenuti a tutti e a tutti oggi e grazie a chi ci darà una mano per tutto l'anno per costruire un nuovo giorno culturale e politico per questa città.